Ciao Arturo, come stai? Allora, anche quest'anno ci ritroviamo a raccogliere le firme come ormai... Ma l'anno scorso non l'abbiamo fatto? Eh, due anni fa sì, tre anni fa sì... Eh, quindi era passato un bel po' di tempo, era ora... Ci eravamo dimenticati dei banchetti, li abbiamo riscoperti, solo che questa volta raccogliere le firme è stato veramente meraviglioso. Però è bellissimo vedere le persone che vengono qui a fare la fila, a me ci si è asmato tanto. No, veramente, abbiamo ricevuto molti complimenti, hanno mitigato un po' la nostra fatica di questi anni, ci hanno ripagato con delle belle parole, la nostra fatica è stata ripagata molto bene, un grazie agli italiani che forse cambiano, forse cambiano. Vediamo lì i nostri banchettari in azione.